Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati a giocare su Brawl Stars Signori miei, mi ha preso questo giochino, infatti se non sbaglio è il terzo video di fila che pubblico Perché sono sincero, mi stanno un attimino divertendo Allora signori miei, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti Per le richieste di amicizia che mi state inviando, ora vi faccio vedere l'indie E che altro dire, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook E se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite Paypal, il link lo trovate sempre in descrizione Detto questo partiamo con il video Ok ragazzoli, allora, fermi tutti, per prima cosa vi faccio vedere l'indie che mi avete chiesto di... eccolo qua Questo qua è il mio ID, hashtag 8u2qpvr9v Quindi chi voglia aggiungermi come amico lo può fare, l'ho già aggiunto ben Che addirittura c'ha 14.000 coppie, io ne ho solamente 56, faccio schifo in una maniera assurda E detto questo, signori miei, allora, abbiamo qualcosa di gratuito nel negozio, che non so cosa sia Gratuito, oh abbiamo una bella cesta, una cassa Abbiamo una cassa, che mi dai, bello? Dammi qualcosa di buono Mi dai soldi buoni e punti energia per il nostro orso Yogi Va bene, che arrivo a 30, non lo possiamo... oh, ancora c'è uno giro... oh, punti energia per Shelly, grande Shelly La nostra amica Shelly, c'era una canzone di Vasco Rossi che era Shelly E qualcosa, sì Oh, era della mannoia, non mi ricordo, no, era uno di tutti e due, era sicuramente la canzone Shelly Allora, noi potremmo comprare tante altre bellissime cose, spendere soldi, ma non c'ho voglia Voglio giocare, signori miei, allora, io in questo video, perché non me li salva gli eventi, afferra gemme E l'altro evento è sopravvivenza, allora, uh, aspettate, abbiamo sbloccato il pass, andiamo a prenderci il pass Spettacolo, signori miei, dagli con la cassa enorme, cos'è una cassa enorme? Dagli così, uh, 134 monete, bella roba, punti energia per Shelly Che possiamo migliorarla, bella così, punti energia per il Pocho, il nostro messicano pazzo, bella così, uh, pure lui possiamo migliorare Allora, punti energia pure per l'osso Yogi, altri punti di energia, mamma mia, possiamo fare un macello, raga Ancora c'ho, uh, bonus da doppi oggettoni per due Interessante questa cosa, ho ricevuto un sacco di cose, mi piacciono queste casse enormi, ma belle La prossima raggiungeremo, superando i 30, non ho capito, i 30, i 30, dobbiamo raggiungere forse 30 monete verdi per raggiungere la cassa Brawl Livello 4, non lo so, non è la più parola di idea Ehm, vediamo un attimino, Brawl, andiamo a migliorare tutti quanti i Brawl, migliora Shelly Bella così, daie, daie, migliora Grande, Shelly a livello 4, raga Cioè, secondo me sicuramente fa schifo rispetto a quello che avete voi Però, bello così, l'orsetto Yogi, che mi fa paura, sinceramente, signori miei L'orsetto Yogi mi fa tanta paura, mamma mia È posseduta, livello 3 dell'orsetto Yogi, bello così E anche il Pocho, il nostro messicano pazzo Miglioramolo, daie così Ma io vorrei una cosa, raga, ma, vabbè, sì, ognuno ha dei punti per essere migliore, praticamente Attacco, difesa, utilità, va bene Allora, stop così, fermi tutti Io voglio andarmi a fare una raffa gemme, signori miei E poi proveremo l'altra modalità di sopravvivenza che abbiamo sbloccato l'altra volta Allora Subito, una bella partita così No, dove sono io? Ok, vai, vai, via, via, via Veloce, 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 veloce Veloce, 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 distruggi tutto No, 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 questo si è peccato la mia gemme Ok, la gemme l'abbiamo recuperata No, sono morto Subito così Dai, non ti schifo Allora, loro hanno già tre gemme Questa cosa non va bene Recuperiamo le gemme, signori miei E qua, non sta qua Dovremmo uccidere a questo Oh, ok, 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 ok Perché questa non si muove, raga? Perché questa non si muove? Ok, si sta muovendo adesso Dai, 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 dai Dovevo recuperare le gemme, raga Dovevo recuperare le gemme Dai, dai, uccidi qua lo soiochi No, 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 lasci, dobbia, di, di, di Ok 5 gemme, 5 gemme non è male 5 gemme non è male 5 gemme non è male 6 gemme non è male No, come 5 Come 5 Stiamo 5 a 1 Stiamo 5 a 1 Dai, uuuuuh, quella la posso prendere, quella la posso prendere Uccidi, 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 uccidi Uccidi, 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 uccidi Uccidi, uccidi, uccidi Dai, così, dai, così Recupera, recupera No, mi ha fregato la gemma, pa Bastardo, c'è un troll Occhio, 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 occhio Siamo a 9, raga, siamo a 9 Io devo recuperare la vita Conto la rovescia Bello così, bello così Devo recuperare la vita, devo recuperare la vita Siamo a 10 gemme Dammi un altro, dammi un altro, zio Ok, 11 gemme a 0 Conto la rovescia Dai, 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 dai Dai, 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 dai Bello così 12 gemme a 0 12 gemme a 0 Conto la rovescia È finita È finita Forse sono stati migliori, raga Ho preso più gemme di tutti Può essere? No Porca miseria L'omino lì, cactus, mi ha fregato Mannaggia, l'omino cactus, mi ha fregato Porca miseria L'importante era portarci la vittoria a casa Grado 6 Bello così Uh, dai, dai, dai 22 gettoni Mamma mia Prendi e porta a casa Dai così Abbiamo fatto un sacco di cose Bellissimo Tante belle coppe Tanta belle pro pass Bello Mi è piaciuta questa cosa Allora, intanto andiamo qui Che mi sa che c'è qualcosa di nuovo Uh, il pistolero pazzo Abbiamo sbloccato Colt, signori miei Il pistolero Ah, Colt Con i suoi due revolver Colt spara una raffia di proiettili Con una ricetta assoluta La super La super disintegra La copertura E estende la portata dei proiettili Buono, interessante Mi ha fatto anche questo? No, questo al prossimo Ti servono Va bene Ok Brawler Ok Colt Più, più, più È bellissimo, raga Più, più, più Non l'avevo mai sentito Negozio c'è qualcosa di nuovo Che cosa c'è? Con 39 Offerte Giornaliero Questo anche lo devo capire bene Come funziona, raga Va bene Ma non ci interessa shoppare Noi non siamo gli shopponi Noi giochiamo per divertirci Allora Proviamo l'altra modalità, signori miei Sopravvivenza In singolo Io non so cosa dobbiamo fare In una modalità di sopravvivenza Ma qualcosa la capiremo Me l'avete scritto nei commenti Tutti i vari passaggi Tutti i vari Ognuno per sé Ah, perfetto Quindi Ognuno per sé E Dio per tutti Ok E che dobbiamo fare? Brawler rimane Ah, bisogna ammazzare tutti i vari brawler Wow Questo non mi piace Ne sono rimasti 9 Ok Ai, ai, ai Oh no Il wrestler Sono morto 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 Ho ammazzato il wrestler Raga Spettacolo Ho ammazzato il wrestler Bellissimo Quindi ho ammazzato uno Prendi i cubi di energia Evita le nubi tossiche Questa cosa è? Cosa Ah, questa mi sa Ui, ok Cubi energia Ok Stiamo prendendo i cubi di energia Questo è interessante Carica Spara Ok Cubo energia preso Ok Stiamo prendendo i cubi di energia Da sotto si stanno ammazzando Io un attimino Con calma Mi prende il mio bellissimo cubo di energia E poi vengo a farvi il fondo schiena A tutti quanti Lai è morto qualcuno Uuu Chi è questo? Uuu L'ho ammazzato Spettacolo No, non l'avevo ammazzato Mannaggia a te Mori male Scontro finale Bello Bello Dove sta? Dove sta il tizio? Raga Prima partita Subito scontro finale Qua, 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 qua Colpiscilo 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 Mannaggia a te Colpiscilo Dai che è morto Dai che è morto Porca miseria Dai che è morto Ho vinto Ho vinto Spettacolo raga Prima partita In solo vivenza Abbiamo vinto Bellissimo Ma la mia scelta è troppo forte raga Ma la mia scelta è un mostro raga La mia scelta è un mostro Mamma mia Stiamo a prendere i gettoni Come se fossero Come così Spettacolo Abbiamo beccato anche Il pro dell'altro pass Ma bellissima questa cosa raga Andiamoci a prendere Vediamo il pass Che mi dai il pass Un'altra cassa Raga fantastico Fantastico Dai questa cassa Che mi dai 30 monete d'oro Va bene così Punti di energia per il rosso yogi Solo 4 Dai ma che tristezza Mi aspettavo magari 10 punti di energia Punti di energia per il messicano pazzo 25 La possiamo aumentare di livello Bella così Bella così Mi è piaciuta tantissima quella modalità Signori miei Quella modalità mi è piaciuta Veramente tanto Allora Torniamo indietro Andiamo ad aumentare Il nostro messicano pazzo Dagli è così Fai quello che vuoi Solo a livello 3 E andiamo avanti Signori miei Lui è ancora a grado 1 Eh vabbè Non fa nulla Non sta a scegli Scegli un mostro Signori miei Scegli un mostro Va bene ragazzoli Detto questo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Che sicuramente sarà più breve del solito Però se faccio cose troppo lunghe Può diventare ripetitivo E poi mi annoiate velocemente Ehm Detto questo Signori miei Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Io l'ID ve l'ho fatto vedere Quindi Chi voglia mandarmi delle richieste di amicizia Lo può fare Poi eventualmente vediamo Di poter fare qualche video assieme Ehm Detto questo Niente Noi ci vediamo sempre qui Per ora raga Mi sono intrippato questo gioco Poi vediamo un attimino Anche di riportare FIFA Con i gamberetti O anche Fondomenica Formula 1 Vediamo un attimino Come possiamo organizzarci Detto questo Signori Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao